Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi apriremo finalmente la cuffia delle Wings Wow, non vedo l'ora Finalmente ce le ho In questo video ci sarà Bloom Ciao Perché io da qualche parte dovrei avere anche Musa Però non avevo il tempo per cercarla Però comunque apriamo subito E finalmente abbiamo la cuffia E qui c'è l'ora Evviva Allora le mettiamo un attimo Che bamboline carinissime Sono delle Wings Si accende davvero Wow, si accendono tipo lampada Credo che sono tipo delle bambule lampada Non credo Però Flora è la mia preferita Quella di Flora è la mia preferita Luci di magia In edicola ottobre Uffa stiamo a settembre Vabbè Accendi la magia delle Wings Le braccia le gambe si muovono Bluma la trovi in esclusiva nel Wings magazine Wow Devo prendere per questa collezione Quindi ad ottobre nel Wings magazine c'è Bloom E poi separate ci sono le altre Wings Adesso concentriamoci sulle cuffie perché ovviamente come sempre Apriamo prima il regale Molto facile ad aprire Però fatevi aiutare da un adulto perché Ecco mi sembrava strano così tanto facile C'è lo scotch Però fatevi aiutare da un adulto A levare questa plastica perché Io sono grande Abbastanza grande Quindi riesco a fare la sola Però fatevi aiutare da un adulto Perché Vi potete fare male Perché questa plastica Vi potete tagliare con questa plastica Quindi fatevi aiutare da un adulto Uuuuh Così Allora qui c'è il filo per attaccarle Al vostro cellulare Oppure al vostro iPod Se avete un iPod Alla iPod Invece se avete il cellulare Al cellulare Però io le attaccherò al mio iPod Bellissime E ovviamente si regolano Che se no Le potete regolare E così Le chiudete Oh che belle Ascolterò un sacco di canzoni Si sentirà bene? Credo di sì Benissimo Adesso concentriamoci sul magazine In più La città Ciccartoline Magic sticker Oltre 270 di CV Tutti diversi 270 Glitterati morbidosi E brillanti Questi credo che siano Morbidosi Questi qui Già dall'immagine Si capisce Questi sono glitter E questi sono Brillantinati Credo Più Vabbè L'avevamo già detto Un block notice Un block notice E delle cartoline Queste sono le cartoline I block notice Non lo riesco a capire Forse questo E più Sì no Inizia i tuoi sogni Già un gioco I test Magic test Vediamo la tua amica Perfetto Il diario si credo Lo metto Questo E' questo Si sa Un cane Magic wings E non so se l'avete mai notato Quando voi comprate Magazine delle wings Ma la parte della trasformazione E' sempre Alla metà Del giornale E questa è la parte E' una delle parti che adoro Di ogni magazine Perché qui ci sono un sacco Di vestiti bellissimi E qui potete leggere Da dove li potete comprare Tipo questo Che non ho capito Questa Ah viva le borse Mini Come è stata la bolla Ah questa è una mini borse Giochi 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 E qui invece la prossima uscita E in più Solo con il prossimo magazine Bloom Luci di magia Si accende davvero E lampeggia Lampeggia In che senso fa Pium pium Ok Cerca le altre wings Luci di magia In edicola Magica artista Il fumetto Qui Di nuovo la pubblicità Dei 44 Wow Che bella Flora Vedete Comprerò anche le altre a parte E Ovviamente Spero di trovare Flora Non so se sono a sorpresa Oppure si scelgono Perché queste escono a ottobre E comunque ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bellissimo mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao